Buongiorno a tutti, ciao e benvenuti nell'atelier dell'italiano. Io sono Valentina e oggi on voit qualcosa un po' tipico dell'ottomno, siamo in autunno e anche io ho già preso il raffreddore. Avant di commencer, je vous rappelle che vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur le quinze erreurs che vous ne ferez plus in italien, ici en bas, dans l'infobox della video, vous trouverez le lien pour le télécharger. Ma allora, parliamo un po' del raffreddore, donc le rhum. Etre un rhumé, in italien, on peut dire essere raffreddato o raffreddata o avere il raffreddore. Quindi, nel mio caso, io ho il raffreddore. Posso anche dire che sono malato o malata o ho l'influenza, ma l'influenza c'est un peu plus, c'est avec plus de symptômes, tandis que être arrumé c'est comme la vue, avere il raffreddore o essere raffreddato. Quindi, non mi sento in forma, non sono in forma, je ne suis pas en forme, probabilmente ho preso freddo. Quindi, prendere freddo o avere preso freddo, parce que j'ai déjà pris froid, probablement. Quali sono i sintomi di un raffreddore, donc les symptômes? Posso avere il naso chiuso, donc les nez bouchées, o il naso che cola, donc les nez cool. Se ho il naso che cola, devo soffiarmi il naso. Il verbo è soffiarsi il naso, donc avec un pronom réfléchi. Quindi, io posso dire che mi soffio il naso con un fazzoletto, donc un mouchoir, un fazzoletto. In questo caso, un fazzoletto di carta. Un altro sintomo del raffreddore è lo starnuto. E ciò, quando una persona fa uno starnuto, in italiano diciamo salute. Oui, c'est le même mot qu'on utilise pour dire santé, quand on boit quelque chose ensemble, mais on l'utilise aussi pour dire a tes souhaites, o a vos souhaites. Donc, on ne fait pas la différence entre formel et informel, parce qu'on dit simplement salute. Et la persona che ha fatto lo starnuto risponde grazie. Il verbo è starnutire. Starnutire. Eternuer. Attenzione, perché è un verbo che si coniuga come finire, capire, etc. Donc, come le verbo finire, capire, faites attention quand vous le conjuguez, parce che, par exemple, finire, je dis io finisco, tu finisci, etc. Pour starnutire, c'est la même chose. Donc, je dis starnutisco, starnutisci, starnutisce, etc. Altri sintomi di un, di essere raffreddato, o forse piuttosto di un influenza, donc, comme on a dit, des symptômes un peu plus fortes, possono essere avere la febbre, avere mal di ossa, des curvatures, e avere mal di testa, évidemment. Quali sono i rimedi? Je ne sais pas, surtout riposare. Bere qualcosa di caldo, una tisana, o qualche cosa di caldo, donc, voir quelque chose un peu d'écho, ou prendere un farmaco, uno spray, per il naso. Voilà. Moi j'espère que la vidéo vous sera utile. Moi j'espère aller mieux dans les prochains jours. Spero di stare bene nei prossimi giorni. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vi piace, e d'iscrivervi al canale cliccando qui sotto. Potete anche attivare la piccola campanella, la petite cloche, pour recevoir une notification chaque fois que je publie un vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501